Buonasera e bentornati al TG 10 Milan Inside. Il Milan non ha ancora trovato la prima vittoria stagionale e ieri sera pareggiato 2-2 contro la Lazio. Dopo un primo tempo in cui i rossoneri erano andati in vantaggio con una rete di Pavlovich all'ottavo minuto, nel secondo tempo hanno dovuto rimontare per ottenere il pareggio. Castellano e Sevilla hanno infatti ribaltato la partita segnando entrambi nel giro di pochi minuti. Leao che evita la sconfitta e segna la rete del 2-2 a pochi secondi dal suo ingresso in campo. Un dato negativo è che il Milan ha subito due reti in ognuna delle partite che si sono disputate fino ad oggi. Gerri Cardinale ieri sera era presente allo Stadio Olimpico di Roma ma sembra non ci sia stato nessun discorso alla squadra nel post partita. Critiche nei confronti di Teo Hernandez e Leao che alla chiamata del cooling break non hanno raggiunto la squadra per ascoltare le imitazioni di Fonseca. Teo ha giustificato e minimizzato il suo comportamento dicendo che lui e Leao erano appena entrati e non avevano bisogno della pausa. Tammy Abram e Musa però appena entrati anche loro non sono rimasti dall'altra parte del campo. È sembrata una presa di distanza dall'allenatore dopo essere stati lasciati in panchina fuori dalla formazione iniziale. Conquistare nuovamente un solo punto non è il risultato che ci aspettavamo ma speriamo che durante la pausa nazionale i giocatori continuino a lavorare sodo. Come sempre aspetto la vostra nei commenti e vi do appuntamento alla prossima puntata del TG di ACM e Aniside. Come sempre aspetto la vostra nei commenti e vi do appuntamento alla prossima puntata del TG di ACM.